Che posso fare per te, Sofia? Hanno ucciso mio nonno. L'assassino può essere ancora in casa. Ho paura, Charles. È lei l'investigatore di Sofia? Siamo una famiglia bizzarra, Charles. Ci aspetta un altro assassino, non crede? C'è tanta crudeltà. È questo che mi sconvolge. Ecco cosa succede quando la persona che ami di più è anche la persona che detesti di più. Sono certa che mi comprende. O non sarebbe in questa casa, altrimenti... Come sono fatti gli assassini? Come lei. Come me. Come tutti. Passionali. Spietati. Hanno in comune uno o due aspetti. Vanità. Rancore. Gli assassini tendono a credere di essere al di sopra delle regole e delle leggi che governano i comuni mortali. La sua descrizione si addice a tutti i membri di questa famiglia. Chiudeci. новые legge. Dio. Oltar. Chiudeci. Oltar. Abra.